Siamo a Varigotti per la tre giorni di formazione dedicata ai sacerdoti della Diocesi di Chiavari. Il tema di quest'anno è vita spirituale ed esercizio del Ministero e ad affrontarlo con i sacerdoti della Diocesi c'è il Vicario Episcopale della formazione dell'Arcidiocesi di Milano, Monsignor Ivano Valagussa. Adesso scendiamo e andiamo a incontrare il relatore e i sacerdoti. Qual è il tema dell'incontro che trattate in questo ritiro, in questo corso di formazione? È un corso di formazione che desidera affrontare il tema della vita spirituale dentro l'esercizio oggi del Ministero del Presbitero. È un'occasione anche importante perché se da un lato i riferimenti dal punto di vista dei documenti della Chiesa sono chiari, espliciti, dall'altro però il contesto in cui un sacerdote vive in questo Ministero è in profonda trasformazione, grandi cambiamenti ci sono. Si tratta appunto di cogliere l'occasione per non solo capire come vivere in Ministero ma anche cogliere l'occasione per trasformare la propria vita perché il Ministero è anche testimonianza di una fede personale, fede anche di popolo di Dio, fede anche dentro quello che è l'esercizio del Ministero del Presbitero. Quali sono i cambiamenti che creano più difficoltà nell'esercizio del Ministero? Sono cambiamenti in ordine anzitutto alla cultura, al modo di concepire la vita, il senso della vita. A volte anche quando le persone si collocano dentro anche la ricerca di qualcosa di bello, di grande della vita, occorre però anche una purificazione, occorre anche una maturazione di questi desideri. Penso anche soprattutto il tema della solitudine che nasce soprattutto da un individualismo che va a toccare un po' tutti gli elementi anche della vita, di ogni famiglia, penso anche di una comunità cristiana. E perché no? Tocca anche a volte l'esperienza stessa del Ministero. Non è possibile concepire oggi il Ministero se non dentro un presbiterio e quindi nella comunione con altri, con fratelli e in riferimento al proprio Vescovo. Questa è la sfida che il tempo ci presenta, cioè quello anche di vivere il Ministero nel presbiterio. Ma per presbiterio cosa si intende? Non un'entità astratta, ma effettivamente sono relazioni che intercorrono tra persone che vivono anche in stagioni diverse il proprio Ministero. La intergenerazionalità anche tra i presbiteri è una fonte di evangelizzazione nella misura in cui sappiamo accoglierci gli uni gli altri, prenderci cura dei cammini di ciascuno, proprio perché poi dentro quelli che sono gli elementi che caratterizzeranno poi le relazioni, passa anche l'annuncio del Vangelo. Qual è l'importanza di un a tre giorni come questo, di un momento di formazione per i sacerdoti della diocesi? Ma è importante perché è un momento annuale che raccoglie un buon numero di sacerdoti, eravamo una cinquantina circa, ed è importante anche perché è un'espressione della fraternità, concedere tre giorni in cui si sta insieme. Ogni anno si sceglie poi un tema da approfondire, si invita un relatore e quindi anche un'occasione di aggiornamento. Quali sono state le ragioni che hanno guidato la scelta di quest'anno come teme? come relatore? Ma riguardo al tema abbiamo voluto proseguire il cammino dello scorso anno, lo scorso anno il tema era la vita spirituale del presbitero, quest'anno abbiamo legato alla vita spirituale anche l'esercizio del ministero, quindi come conciliare un po' un ministero che oggi è abbastanza faticoso, stressante sotto certi punti di vista, a una vita spirituale che comunque ci alimenta, ci sostiene, ecco come tenere insieme le due cose. Il relatore è il Monsignor Ivano Vallagussa che è il vicario episcopale per la formazione della diocese di Milano che ho conosciuto in alcuni incontri e quindi mi sembrava una persona molto preparata anche per trattare questo tema. Dal punto di vista più pratico come si sono svolti questi tre giorni, cosa avete fatto? Ci sono stati momenti di ascolto del relatore, oggi abbiamo fatto un lavoro a gruppi di laboratorio, ci sono però anche momenti distensivi come dopo pranzo, ieri sera ad esempio non c'era nessun appuntamento, stasera ci sarà un film, quindi direi momenti anche di gratuità, di relazioni fraterne, di incontrare con fratelli che magari da tempo non si vedono, quindi direi un impegno ma anche un momento distensivo. E una curiosità, come mai l'incontro di Sagiolatela Diocesi svolge fuori Diocesi? Ma lo facciamo in parte anche per non essere così legati ai nostri impegni, ecco perché se facessimo un incontro nella Diocesi, io temo che molti magari vorrebbero scappare perché hanno un incontro, hanno un impegno, invece così siamo obbligati anche a risiedere lontani e quindi abbiamo questa opportunità di staccarci un po' dal lavoro pastorale di tutti i giorni. Tre giorni di corso di formazione, tre giorni qui a Varigotti insieme con i confratelli, innanzitutto un po' com'è passare, com'è staccare in questo luogo per questo motivo? La ritengo un'esperienza molto bella che in questi anni è cresciuta sempre di più perché non solo si vedono i frutti durante l'anno ma ogni volta che ci ritroviamo diventa proprio interessante il rapporto fra di noi, la fraternità che viviamo, il dialogo che c'è fra di noi non solo nei momenti di lavoro ma anche a pranzo, a cena, passeggiando insieme dopo pranzo o prendendo il caffè. Ecco mi pare che sia veramente un'occasione in cui facciamo un'esperienza di fraternità e in cui c'è un dialogo sulla qualità, sulla vita di fede di noi sacerdoti. C'è anche quindi un confronto diciamo su quello che è proprio il vostro, diciamo, il vostro essere sacerdoti poi durante l'anno, durante il quotidiano? La cosa bella è che mettiamo a tema la nostra vita e non tanto le cose che facciamo. Com'è questo momento della tre giorni di formazione, il fatto oltre poi ai momenti di lavoro anche il trascorrere in tempo insieme ai confratelli che magari non si vedono spesso? È una sosta per noi molto vitale perché è un'opportunità per proprio incontrarsi e anche poter dialogare un po' da vicino perché siamo immersi ognuno nelle sue parocchie, nelle sue attività e poi l'occasione per poter incontrarsi, scambiarsi un po' le idee e anche, come dire, poi stare insieme. Quindi una parola chiave sicuramente è la parola appunto, come si diceva, fraternità. L'occasione proprio di guardarsi negli occhi, di parlare della nostra vita di ogni giorno. Questo è una cosa che ci riempie, ecco. Ed è bello che magari in altri momenti sembra essere per qualcun altro e qui è un'occasione che possiamo dire è per noi, è ciascuno per sé. E anche questo, come dire, questo aspetto che sembra egoistico in realtà è un aspetto che poi ci riempie per poter donarci poi dopo. Naturalmente è anche un momento di preghiera. Io personalmente qui un po' ci si raccoglie, oltre il posto che aiuta tantissimo, ci si raccoglie anche un po' più nella preghiera per riempire, come dire, per rigenerarsi. Una delle tipicità di questo momento è anche il fatto che staccate per tre giorni in voi tutti i vostri impegni. Comunque siete più fediocesi e riuscite ad avere anche un momento un po' per rigenerarvi. Sono quei salti all'indietro, come se mi permetto l'immagine, che uno fa un pochino per saltare più a lungo. E quindi in qualche modo questo stacco ci fa ancora vedere in medio anche la realtà di ogni giorno.